Una sedicesima edizione sotto tono, quella del premio letterario internazionale dedicato alla scrittrice aquilana Laudomia Bonanni, quello che si terrà venerdì 24 e sabato 25 novembre. Un premio da 6.000 euro anche quest'anno senza la sezione dedicata alla poesia dal carcere, per questioni di sicurezza che la casa circondariale dell'Aquila non può garantire. Sotto tono perché, come fanno notare gli organizzatori, il territorio ha mostrato poca volontà di contribuire economicamente al premio, che resta di 6.000 euro come l'anno scorso. L'evento tuttavia va avanti nonostante le difficoltà, superati con grande sforzo negli anni post-sisma e sostenuto dalla BIPER e dalla Fondazione Carispac. Ospite d'onore quest'anno sarà lo scrittore e poeta olandese Faber, tra i narratori più famosi del mondo. Sono due anni che purtroppo non riusciamo ad esprimere questa parte un pochino particolata del premio di poesia dedicato al mondo dei reclusi, fatto a livello nazionale per difficoltà delle istituzioni carcerarie che non sono in grado di garantire la sicurezza dell'evento per problemi loro e quindi abbiamo dovuto tralasciare questo aspetto. Però la giornata del venerdì sarà dedicata alla comunità, la nostra idea è di incontrare la comunità di Paganica. Sento che in città comunque c'è necessità solamente di risorse finanziarie e non sembra che appunto i commercianti o gli imprenditori vari stiano rispondendo a questa richiesta. Come assessora della cultura i fondi sono quelli che sono limitatamente alle disponibilità del bilancio comunale e quindi se non troviamo sponsor come ad esempio, faccio l'esempio di Fondazione Carispac, la stessa Biper o altri fondi di questo tipo, raramente riusciamo ad avere dei contributi da parte della città. Grazie a tutti.